Mario, ma che stai facendo con Vivi? Io sono l'unico che tu possa cavalcare. Yoshi, non è come sembra, io e Vivi siamo soltanto amici, ma vi facevamo una passeggiata. Non ti credo Mario, sei uno sporco traditore. E sai che faccio io ora? Sai che faccio io ora? Me ne vado con tuo fratello. Enfasi, ci volevo. Enfasi, me ne vado con tuo fratello. Luigi, ma me lo hanno. No, Yoshi, non mi tradire con lui. Io ho sempre amato solo te. Questo Giotto lo odio. Giotto? Questo Vivi lo odio, è brutto. E anche io ti amo Mario. Luigi è cattivo. Mario, amico mio. Mario, amico mio, abbracciamaci. I pezzi sonori e economici. Bisogna risparmiare, insomma. Adesso cavalcami per l'eternità. GANTS? GALAXY. Oh no, c'è un nuovo nemico. Trasformami, prendi reali. Già Marco le ali di servono. Piccoli problemi tecnici. Sì, RG, RG. Piccoli. Trasformazione del trasformerazione. Cosa? Oh no, tu hai ucciso il mio caro amico Yoshi, dopo che io ho ucciso Ivy e lui ho ucciso Luigi. Io ti ucciderò. The drama is real. Io sono un trasformer. Sono Bubble Bee, però mi sa che non sono Bubble Bee. Combattiamo. Ah sì? Adesso io mi mangerò un uovo. Mangerò un uovo. E diventerò più forte. Guardate qui. L'ha mangiato. L'ha diventato molto più forte grazie a poterlo. L'ha mangiato! Posso creare un doppio che può aiutarmi nelle battaglie. Adesso che siamo vai, possiamo combattere. Vada col cielo. Saluta. Oh no. Mario Platinum. All'attacco. Quando è lungo? Perché più di tre minuti non può essere. Quasi. Ok. Quando è? Finale, finale. Adesso basta. Attacco combinato di Mario. Pugno di Mario. Calcio di Mario. Transformer. Usa staccamento di ali. Le ali si attaccano a Mario. Mario vola. Mario sta volando. Testata di Mario. Vince Mario. E' super. E lui è super Mario. Mario. Tata da 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 da. Hai vincito per caso? No. No. The end.